anche io voglio essere grande cosa stai facendo qui non devi toccare le cose dei grandi basta inviva sono scarpe da ginnastica mamma piccole birchine sono bloccata papà aiutami cos'è successo? non devi prendere le cose della mamma mi dispiace dai basta oh di nuovo sì sono come un adulto è tutto così noioso devo decorare adesivi il mio computer che cosa hai fatto? il computer dei tuoi genitori non si tocca basta sì oh mio dio nastia non devi metterti al volante no oh mio dio nastia non devi metterti al volante no punizione giusto? sì di nuovo sì yeah sono cresciuta posso preparare l'insalata per papà mi serve un coltello mi serve un coltello mi serve un coltello tu 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 ahhh nastia non devi farlo no no i bambini non devono toccare i coltelli no volevo cucinare qualcosa per te tesoro guarda cosa ho qui per te wow quanto lavoro non sarà così difficile gioca con nastia e non distrarre papà next video favore come fai ad essere così bella? se vuoi certo la prima regola è la postura fra dritta la prima regola di te stessa mani farci la faccia prossima regola devi prenderti cura dei tuoi vestiti oh no oh no oh no non La prima regola è spazzolare sempre i capelli! Quasi fatto! Ora è il momento del trucco! Oh, lo so, è così facile! No, 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 no! È necessario avere un po' di trucco! E' il rossetto! Che cos'è successo? Ho fame! No, no, no! Non lo mangio! Dobbiamo mangiare cibo sano! Buono! Ora sono così pronta! Sono così bella! Non hai ancora finito! Le belle ragazze leggono i libri! Ok! Dov'è il mio cane? Chianti! Biscotto! No, 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 no! Le principesse non si comportano così! Ciao ragazzi! È l'ora della piscina! Nastia? Dove stai andando? Sto andando in piscina! Crema solare? Ok! Nastia! Cosa? Asciugamano? Ok! Ok! Nastia! Cosa? Occhiali! Occhiali! Ok! Nastia! Cosa? Giubbotto? Non mi serve! So nuotare, papà! Ah! Ok! 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 Guarda! 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 Oh no! Oh, ok? Ok! Muodiamo! Papà, papà! Cosa? Cosa è successo? L'acqua è fredda, non riesco a entrare! Ok, ok, non preoccuparti! Dì più! Dì più! Bene! Grazie, papà! Ah, un serpente, un serpente! Papà, papà! Ah, un serpente, un serpente! Un serpente? Dove? Non lo vedo! È lì! Guarda, lì! Oh, no! Lì, lì! È lì! Lì, guarda, è lì! Lì! Dove? Non è un serpente, Nastia! È una foglia di palma! Ok! Andiamo a nuotare, Nastia! No, ho cambiato idea! La prossima volta! La prossima volta! Nastia! Cosa? Ah!